Siamo sulla partita che è appena finita? Abbiamo visto una classica finale tra due bellissime squadre è un episodio che è deciso la partita noi siamo stati sfortunati su un palo ma credo che il pareggio era il risultato più giusto per il 2014 per il resto devo fare solamente gli auguri a questi ragazzi grazie per averci portato fin qui e magari per l'anno prossimo sarà sicuramente migliore